Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida Vai sui foschi fumaioli nella tempesta come storm. Mi trovo qui a foschi fumaioli, adesso zoomo, qua praticamente su uno dei due fumaioli. Dovete attendere che arrivi la tempesta, nei panni di tempesta e buttarvi qui sotto. Come potete vedere la sfida è completata. Naturalmente potete arrivarci anche da sotto. L'importante è trovarvi nella tempesta con tempesta e volare nei foschi fumaioli.